cari amici di youtube ben ritornati sul mio canale oggi come vi avevo promesso vi parlerò del ciclo della nuotua e nel dettaglio andremo a vedere il suo sviluppo vi ho preparato uno schema dove vi spiegherò bene allora innanzitutto abbiamo gli adulti le farfalle adulte che solitamente tendono a svilupparsi come larva o come crisalide raramente hanno una breve attività in forma di crisalide cosa succede loro tra marzo aprile ricordatevi questi mesi qua perché solitamente in questo periodo sfarfallano quindi le vedrete già sul prato andranno a deporre appunto le loro uova sul prato si infileranno bene tra i fili di erba e lì deporranno utilizzando appunto la lamina fogliare come ospite oppure si potrebbero anche tranquillamente potrebbero sfarfallare anche su delle piante capita spesso anche nei pomodori e niente ora parliamo di tappeto erboso comunque loro andranno a deporre nel nostro tappeto erboso una volta che depongono le uova queste uova andranno a schiudersi e questi bruchi che nasceranno inizieranno il loro ciclo mangeranno il tappeto erboso danneggiandolo appunto perché lo mangeranno proprio alla base alla alla radice e lo rovineranno voi vi dovrete dovrete accorgervi prima appunto che arrivi questo questo danno qua quindi tra marzo aprile appena le vedete però continuiamo il ciclo una volta concluso il ciclo il bruco si trasforma in farfalla cosa succede gli adulti si spostano sfarfallano e fanno un altro ciclo di deposizione a giugno a luglio rifaranno le loro uova e ci andranno a danneggiare ulteriormente il nostro tappeto erboso e così via potrebbero continuare anche per la terza generazione la quarta generazione solitamente in base anche alla zona climatica arrivano alla seconda generazione ora come accorgervi di queste farfalle o le notate appunto sul tappeto erboso che volano anche quando innaffiate vi accorgete che loro volano via non appena buttate l'acqua oppure noterete anche dei passeri degli uccellini che andranno a cibarsi proprio appunto di farfalle quindi il metodo per diciamo combattere questi parassiti è quello chimico o comunque biologico io fino ad ora ho utilizzato un metodo chimico quello di un insetticida proprio come vi ho consigliato nello scorso video un insetticida adatto proprio per notue che va a colpire le larve le le uova e le farfalle distruggendole completamente quindi io vado agire in questo periodo qua marzo e aprile tratto il prato con un prodotto chimico e le faccio completamente fuori per qualsiasi curiosità continuate a seguirmi ciao e al prossimo video